Ehi! È uscito il calendario unico degli eventi 2016 a Modena. Tutti i mesi succede qualcosa, e certi mesi sono speciali. A febbraio ti aspetta Modena Antiquaria, tra le più importanti espressioni del mercato dell'arte antica in Europa. Ad aprile c'è Play, il più grande festival italiano dedicato al gioco che porta in città migliaia di appassionati. Maggio è il mese della Notte Europea dei Musei, dove la città ti aspetta tra cultura, spettacoli e musica. Settembre è un mese speciale, incredibilmente ricco di eventi. C'è il Festival Filosofia, con tutti i migliori pensatori in circolazione e la città piena di gente. E poi, Pavarotti nel cuore, la serata in omaggio al grande tenore modenese nella straordinaria cornice di Piazza Grande, perché Modena è la città del bel canto. Ancora a settembre, Motor Gallery, l'importante mostra mercato di motori a due e quattro ruote al quartiere fieristico. Infine, Mutina Boica, grande festival di rievocazione storica. Se attendi ottobre, puoi trovare Vie, festival dedicato al teatro e alla danza contemporanea. Con il calendario 2016, tanti altri eventi per visitare e soggiornare a Modena da gennaio a dicembre. Arte, cultura, buon cibo, bel canto e motori, perché in città c'è tanto da vedere, provare e scoprire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.